Fabio, il 26 di novembre si terrà un primo appuntamento di Prima I. Di che cosa si tratta? È un meeting nazionale dove tutte le realtà associative che fanno parte di questo progetto, che ricordo si svolge in Puglia, nel Lazio e in Calabria, e in Calabria rappresentata dalla Cooperativa Guarà, da Noemi e dal Teatro della Moruca, si incontrano per discutere quanto è stato fatto e come rilanciare questi due anni che rimangono del progetto in un'ottica efficace, specialmente tenendo conto di quello che è stato il Covid e quello che ancora più o meno è. Quindi in realtà è mettere insieme queste tre regioni e soprattutto far emergere quello che è il sociale? Sì, guarda, l'ho detto l'altra volta, c'è un muro che si è alzato invisibile, che non si riesce a vedere e i minori ne stanno pagando le conseguenze, al di là dell'età di appartenenza. Noi stiamo puntando sul concetto di pedagogia e digitale, cioè su come utilizzare al massimo questa risorsa, in quanto per i bambini il digitale è una cosa estremamente normale, per noi adulti è ancora un filtro e quindi dobbiamo imparare a utilizzarlo al massimo in modo da cominciare a distruggere questo muro che si è alzato. Viviamo con minori che soffrono di crisi d'ansia, che non sono più così socievoli, non hanno più la capacità del contatto, dell'abbraccio e quindi dobbiamo ristrutturare tutto questo percorso. Io ringrazio i relatori che sono essi disponibili, tra cui Paolo Sesti, perché insieme cercheremo di riorganizzare le idee e creare un documento che possa essere un punto di riferimento per i prossimi due anni. Sociale e psicologianze? Eh sì, non possiamo prescindere uno dall'altro, veramente non possiamo prescindere più dal fatto che dobbiamo lavorare in ottica di sistema, noi dobbiamo lavorare in sinergia con le scuole, con l'informazione, con l'area della psicologia, perché abbiamo bisogno uno dell'altro, insieme ci rafforziamo e forse riusciremo a ridare una prospettiva di serenità ai nostri bambini. Dove si terrà questa iniziativa del 26 novembre? Il 26 novembre si terrà nella sala della Banca Popolare delle Mine Romagna, quella che sta sul lungomare, anzi la ringraziamo per la disponibilità che dà sempre verso queste attività. È un luogo bello, anche il concetto del bello e del mare, che noi ce l'abbiamo, ce lo dobbiamo giocare perché il mare ci riappacifica con il mondo e forse dovremo tornare a guardare molto verso quella parte.